Cosa serve al mezzogiorno per raggiungere i target di economia circolare al 2035? Ci sono alcuni fattori che distinguono il centro-sud dal resto d'Italia. Primo, raccolta differenziata insufficiente, 40% contro una media nazionale del 50% e contro il 70% delle regioni del nord. Secondo, una dotazione impiantistica per trattare i rifiuti insufficiente. In tutti i settori mancano discariche, mancano impianti di termocombustione, mancano impianti di riciclaggio e di trattamento della frazione umida. Di conseguenza, terzo fattore, esportazione di rifiuti dal centro-sud verso il nord o verso l'estero. E ultimo fattore, utilizzo molto superiore alla media italiana della discarica. Tutto questo comporta, peraltro, tariffe più alte rispetto al resto del paese. Quindi, cattivo servizio, ma i cittadini pagano di più. Che cosa serve? Innanzitutto che si realizzino gli impianti che consentano di trattare i rifiuti delle regioni centro-meridionali il più vicino possibile al luogo di produzione.